Come assessorato tengo particolarmente a quelle realtà che investono in spettacoli, culture, proposte che in qualche modo rendano partecipate le serate della nostra città. Stagione estiva in pieno corso, tempo libero, ferie e voglia di divertimento. Il comune di Pescara, come annunciato, più e più volte si trova in difficoltà economiche e per non lasciare vuoto il cartellone degli eventi chiede aiuto ai privati. Sì, diciamo che molti privati hanno voluto in qualche modo investire di loro, mettere le loro idee, le loro capacità al servizio di una programmazione che può interessare e che turisticamente e culturalmente ha un valore. Noi siamo accanto a chi fa questa scelta coraggiosa di rischiare a proporre con, ripeto, i loro soldi, le loro capacità organizzative, delle cose che in qualche modo vivificano, arricchiscono il nutrimento culturale anche d'estate a Pescara. Da parte sua il comune si occuperà di offrire agevolazioni e sostegno per sostenere le iniziative più innovative e coinvolgenti sul territorio. Non ci sono stati contributi di nessun tipo, però sicuramente nella comunicazione, nel padrocinio, eccetera, cerchiamo di essere in prima linea e poter dare quelle agevolazioni minime, però a volte sono indispensabili per poter realizzare i loro programmi che sono a cuore anche a noi.